ciao a tutti i guerrieri e guerriere sailor io sono fernandeson gran fan di sailor moon benvenuti in questo vlogmas quindi non si parla di sailor moon ma un vlogmas per me è martedì 18 dicembre 2018 non so a che punto siamo arrivati in vlogmas la barba la foro umani non ho avuto tempo perché oggi mi hanno chiamato hanno anticipato quelli del tecnico della team che devono venire domani mattina per mettere io ho cambiato il gestore della telefonia fissa quindi internet dovrò l'amico la micro fibra no la fibra scusatemi le mie gaff la fibra e team vision quindi un'offerta mode banche eccetera eccetera quindi tutto cambiato e quindi poi c'è stato anche un altro aggiornamento che riguarda the fan box the fan box nella loro pagina facebook hanno estratto il vingitore di quel tabac mobile che era la fan box di c'era il mese di dicembre devo dire la verità natale nerd mi è molto piaciuta ovviamente questo video dopo perché sono già registrato video apertura dei fan box quindi alcuni oggetti mi sono piaciuti come la dorms di un personaggio della disney come l'action figure di diana alias wonder woman il pupazzino di star wars i guanti a metà il cappellino di meno perché a me non mi piacciono quei cappellini invernali poi vabbè anche carino anche il portachiave di harry potter non so chi è il personaggio quello che vende lui con la barba mi è piaciuto molto e hanno annunciato che probabilmente hanno trovato un nuovo partner che gli può aiutare non so a andare all'azienda di andare avanti e hanno hanno detto che non chiudono quindi non si sa se era vero il rischio della chiusura o era fatto era una specie di scherzo non non capisco un nuovo partner se l'ha definito e prenderanno una pausa questa pausa non so quando 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 terminerà prenderanno una pausa per mettere una per tornare con una box cioè la def box di con grande stile ora non so che termine non mi ricordo che termine l'aveva detto l'aveva cercare di mettere io gli oggetti dei misteri box almeno dei fan box quando ritornerà quindi c'è questa misteri box ritorneranno in futuro non so quando quindi sul canale c'è questa pausa e ho finito di editare il primo passaggio perché sono due passaggi secondo passaggio devo inserire l'intro e l'heading si dice il primo passaggio del vlogmas del 13 dicembre quindi io perché ho quattro giorni mia madre quindi poi sto cercando di caricare un giorno non ho caricato proprio i video di mettere questi video voi dovete sapere che c'è ancora la def box di dicembre i preferiti del mese di novembre sono già altri blogmas con siria eccetera eccetera sì sì ora mi sono chiuso dentro proprio per evitare siria e sono molto contento per questo molto 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 contento stamattina sono stato all'università mi sono avvantaggiato di due libri che ho già un prestito domani non lo so se andrò al tirocinio lavorativo e perché occorre la mia presenza o di qualcuno ora vedrò penso che mia madre deve andare via speriamo che mia sorella rimane vabbè farà il ora non so chi rimarrà o io o loro devono filmare un documento così che è stato detto sono molto contento anche da questo lato della fibra spero che quando carico i video di youtube vada più veloce ma anche internet in generale visto che quando devono pagare le bollette le devono scalare dal mio credito senza andare a pagare le bollette alla posta allora questo video lo faccio molto breve quindi sono molto contento per il questo box chiudiamo parentesi i miei social network da facebook a telegram come si dice li trovate sotto nell'info box se non è affiliata da amazon il mio secondo canale il mio secondo canale i random youtuber boys probabilmente quando li scuoterò la prossima settimana i soldi del 5 novembre ci saranno i manga di dragon ball da amazon qualcosa del genere è un auto regalo sia di natale sia di compleanno targato di essi che non mi svelo chi è è un altro personaggio da 10 secolo molto contento molto molto contento i youtubers del team da fra molto ma te chan a luca metambrizia chiaraccio l'esergio di borsi trice i fratelli kit topanile zeta poi arrivare i nuovi membri greco dario agosto quarto scigli amipi z16 e il candidato membro candidato che per ora è ancora in prova lo squarcio nel tubo noi ci vediamo domani con il prossimo round pass che non so quale sarà ciao ragazzi ciao Grazie a tutti.